Il giovanile l'ho fatto nell'anno 18 la prima volta, quindi diciamo abbastanza tardi, però c'era ancora la famosa regola italiana che se sei piccolo fai fatica, quindi non ero abbastanza grande ancora. E quindi la persona che lavora per lui, che risolve il problema, non ha problemi di soldi, non ha problemi di vita, di casa bella, macchina bella, vita bella, vacanze belle, giochi a calcio, tutti ti guardano come se sei. Grazie